Dov'hai iniziato? Vai! Ciao a tutti! Ciao! Vediamo come cacchio è uscito questa parte! Mettila qui a su! Mettila qui a su qua dentro! Mettila qui a su qua! Guardiamo, guardiamo, guardiamo! Guardiamo! Oh mio Dio! Datemi la luce! Perché una parte va quantità... Brava, buttacela proprio! Guardiamo, guardiamo! C'è il Santelli, muore Paolo Belli! C'è il Santelli, muore Paolo Belli! E' la donna in cucina! Ma adesso non ci si può! Ma mi dici qualcosa? Siamo! Siamo! Ciao mamma! Siamo! No! Sì! Sì! No! No! Tutto! Uno sì! Ecco! Un sesimo! Ecco!